Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto per abolire ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure uno iota o un segno senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti anche minimi e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e insegnerà agli altri ad osservarli, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Fratelli carissimi, anche oggi una parola meravigliosa, un altro colpo di scalpello in questa opera meravigliosa che sta facendo il Signore con la nostra vita. Lui sta in questa qualesima, in una forma particolare, evidente, ma durante tutta la nostra esistenza. Lui cesella, come un sapiente artista, il figlio di Dio, l'uomo nuovo. Perché noi siamo chiamati a vivere una vita compiuta, una vita colmata, riempita trabocchevolmente, come dice il greco originale che è tradotto con compiuto, con il compimento. Ma che significa una vita compiuta? E' interessantissimo, perché oggi il Signore dice che non è venuto ad abolire, che cosa? La serietà della vita. Non è venuto a compiere cose ordinarie. O meglio, Gesù Cristo è venuto a compiere la cosa più straordinaria che si possa immaginare e pensare. Quale? Morire nell'incapacità che tutti noi abbiamo di vivere l'ordinario, di essere fedeli nelle piccole cose, di essere costanti. Per risorgere libero. Per risorgere con la nostra stessa carne, incapace di obbedire alla storia, di obbedire ai piccoli eventi di tutti i giorni, nei quali siamo chiamati a donarci, a perdere la vita, a rompere i nostri schemi, ad amare, in definitiva, ad essere fedeli. Gesù muore dentro la nostra morte, che si manifesta proprio nell'infedeltà, nella incostanza. Quanti ragazzi sono incostanti. Oggi l'incostanza, la infedeltà, è addirittura legalizzata. No, agli onori della legge. Non è che sia legalizzata in sé, perché uno è infedele e infedele. No, trova anche l'onore di una legge ad hoc. Ora, per le unioni omosessuali, ed è evidente, ha fatto, molti sono offesi, ma è evidente perché non è l'amore che fonda questo tipo di unioni. È un sentimento, potrebbe anche essere nobile, indubbiamente, ma è un sentimento. L'amore è qualcos'altro. L'amore è coniugato nella fedeltà. E la fedeltà ha bisogno, la fedeltà ha bisogno di comandamenti, sì, sì, di quelli che si chiamano i comandamenti. Noi pensiamo che, parlando sempre, spesso, di misericordia, di amore, di perdono, qui Gesù è venuto praticamente con un grande, grandissimo tana libera tutti, per cui faccio ciò che mi pare, ciò che... perché poi, comunque sia, io sto dentro questo involucro che si allarga all'infinito della misericordia. pensare così è stolto, profondamente stolto, perché fare quello che mi pare, fare quello che ritengo giusto, fare quello che la mia mente, la mia ragione, mi dice che è giusto, che è legittimo, vivere in questo relativismo totale, per cui ognuno è principio e fine per se stesso e per gli altri, significa l'esatto contrario, significa essere schiavi, schiavi di se stessi, essere obbligati a dare soddisfazione al proprio ego, alla propria pancia, alla propria carne, ai propri sentimenti. L'amore, l'amore, è incastonato in una legge. Antonello, che dici? Ma San Paolo ha parole di fuoco contro la legge. No, San Paolo non ha parole di fuoco contro la legge. San Paolo ci dice una cosa molto profonda, che la legge ci denuncia come peccatori, come incapaci di compierla. Non che la legge sia male. La legge in sé non giustifica nessuno. La legge è un aiuto. La legge è parola di vita. Un ebreo chiama i dieci comandamenti il cammino della vita, le parole della vita. Per questo dice, in Salmo 16, mi indicherai il cammino della vita. Gioia piena alla tua presenza. La gioia piena alla presenza di Dio è compiere ogni comandamento. Fino all'ultimo, iota. Interessante questo dello iota, perché Gesù non a caso cita questa che è la più piccola lettera dell'alfabeto ebraico. In un libro, un ebreo chiamato Gesù, Marie Vidal, è scritto così riguardo allo iod, iota, in ebraico. La più piccola lettera dell'alfabeto. Importantissima. Lo iod, la iota, è decisivo per definire il significato di molte parole spesso simili. È fondamentale per illuminare il senso delle frasi. Ci sono due possibilità per esprimere il passato. O il verbo senza il prefisso iod, al compiuto, o il verbo con lo iod, all'incompiuto, preceduto da un altro prefisso, che cambia l'incompiuto in compiuto. Perché allora non dire semplicemente il compiuto? Perché il passato contenga anche la lettera, lo iod, dell'avvenire, per indicare che la storia non è mai definitivamente terminata e che il passato contiene germi di speranza. Per questo la nostra vita è come una raccolta di iod seminati sul cammino di salvezza che è pensato e donato da Dio. Una storia, il passato, che si fa presente come un grembo fecondo e gravido nell'attesa del compimento. Per questo il Signore dice, sapendo che ormai tutto era compiuto, disse, per compiere, per dare pienezza trabocchevole alla scrittura, alla legge, a tutte le profezie, ho sete. Il Signore ha sete di dare compimento alle nostre esistenze, fratelli. desidera ardentemente accogliere ogni momento, ogni aspetto, anche i peccati. Sì, perché quando è che dice tutto è compiuto? Dopo che ha preso l'aceto. L'aceto, l'acido, l'amaro della nostra vita. Lui è entrato per compiere ciò che noi non potevamo compiere. Con la nostra carne limitata, debole, ferita dal peccato, dall'orgoglio, dalla superbia, che ci fa incapaci di essere fedeli alle piccolissime cose di ogni giorno, ad ascoltare la moglie, ad essere paziente e piena di cura e di attenzioni per il marito, ad essere servizievole in casa, nelle piccole cose, da parte dei figli, non lì come principi, capito? Anche nelle famiglie numerose questo accade, spesso, c'è lì una lotta per chi non fa. Quello che sarebbe normale e doveroso fare, l'amore consiste nel rispetto di alcune regole, fratelli carissimi, perché l'amore non è solo sentimento, l'amore è ragione, l'amore è decisione libera, ogni istante è una decisione libera del cuore, cioè della sede, non solo non dei sentimenti, se non proprio della volontà, l'amore è volontà, l'amore non può essere legato a quello che io sento in questo momento per te, quello che io provo in questo momento per te, lì è facilissimo essere fedele, anzi, siamo molto più che fedeli quando abbiamo le farfalle nello stomaco, ma quando la cosa si fa dura, quando la persona che abbiamo di fronte è difficile, scontrosa, non ci gratifica, lì la fedeltà diventa molto molto più difficile, per questo c'è la Torah, per questo c'è la legge, per questo c'è come ci sono delle orme che Dio ha messo davanti a noi, questi iota, iota che ci aiutano a interpretare, a capire, a discernere, evento per evento, qual è la volontà di Dio, perché l'amore è compiere la volontà di Dio, amare una persona è compiere la volontà di Dio, amare il tuo marito, tua moglie, amare i tuoi figli, amare i tuoi genitori, amare un fratello, è volontà di Dio, e perché? Perché tu e Dio siamo stati creati per amare, allora, lo iota, le piccole, piccole circostanze, che legano il passato al futuro, è come se questo evento che oggi ti verrà davanti, nel quale ti imbatterai, qualsiasi, una piccolissima cosa, Gesù Cristo non è venuto ad abolire quell'evento di difficoltà, quella sofferenza, dove tu devi, sei chiamato a maciullare il tuo io, il tuo progetto, il tuo schema, la tua idea, quello, quell'evento, l'umiliazione, quella cosa che ti si chiede, un prete che deve fare certe cose, un seminarista, una suora di clausura, ma anche una madre che deve obbedire a certi fatti, a certe richieste dei propri figli, fare i compiti, stare accanto a loro, passare una notte insonne perché la figlia piccolina ha un incubo, la malattia, una febbre che fa saltare la settimana bianca, che fa saltare il weekend, che qualsiasi cosa si compre la lavatrice e tu hai pensato di comprare tutt'altra cosa e devi invece lasciare a simulare tutti i soldi per comprare una lavatrice nuova, una malattia improvvisa, imprevista, ma anche cose piccole, cose piccole, quell'insulto, quel sorrisino, quel beffardo che forse ti fa tuo marito o un collega di lavoro, le piccole cose, le piccole cose di tutti i giorni, che tutti i giorni accadono, che pialzi e trovi di nuovo i calzini bucati, tua moglie non te li ha cuciti, no, ma sta in crisi, no, egoista, no, il fatto è che non te li ha cuciti e tu, principe, ereditario, devi andare nel cassetto, guarda un po', a prenderti i calzini, ma li puoi giudicare, quel calzino rotto, quel calzino bucato, è uno iod, perché? perché c'è un passato, cioè c'è una storia, che è tutta la storia della tua vita, che è tutta la storia delle tue moglie, che attraverso quella piccolissima cosa, quel piccolissimo buco nel calzino, ti unisce al futuro, in un presente che è amore, che è perdono, che è misericordia, che è pazienza, che è tenerezza, che è scusare l'altro, allora in quel piccolo iod, in quella piccola circostanza, negativa, ho fatto questo esempio, ma di buchi nei calzini ce ne sono tantissimi, la nostra vita è come una gruviera, piena di buchi, tutti questi buchi sono gli iod, che vanno colmati, che sono esattamente l'occasione perché Gesù Cristo venga a colmare quel vuoto, quando sei umiliato, quando sei incapace di non giudicare tua moglie per quel calzino bucato, quando sei incapace di accettare quella umiliazione, quella difficoltà, quel problema, quell'inconveniente, quella precarietà economica, Cristo ha preso quell'aceto, quella spugna, ha assorbito, che l'hanno messo con la canna verso la sua bocca, ha assorbito tutte queste, tutti questi iod che poi molte volte non essendo non avendo potuto compierli, non avendo potuto noi con la nostra carne dare compimento, si sono ingigantiti fino a diventare divorzio, fino a diventare violenza, fino a diventare malvagità, fino a diventare giudizio, tradimento, odio, rancore, perché lo iod è fondamentale, chi non è fedele nel poco, non sarà fedele nel molto, chi insegna agli altri, ti va bene, non ti preoccupare, ma dai, sono un piccolo giudizio, una constatazione di fatto, ma sì, ma chiama lo giudizio, ah sì, ah sì, tutto inizia con un piccolo seme, fratelli carissimi, in quel seme c'è il passato, quel seme viene da un altro frutto, è come lo iod, come lo iota, c'è il passato, la storia di un albero, la storia del frattore, la fatica, dei contadini, la crescita, eccetera, eccetera, c'è un presente che è macerarsi dentro la terra, ma c'è anche scritto dentro tutto il futuro, altri frutti, se io escludo, perché penso che Gesù Cristo è venuto a togliere di mezzo i piccoli problemi di tutti i giorni, e darci una vita più o meno borghese, se io penso che in fondo in fondo a me certe cose non devono accadere, e posso tranquillamente passarci sopra, posso tranquillamente insegnare agli altri che la superficialità, la sciatteria nelle piccole cose, mi ritroverò essere minimo, considerato minimo, cioè avere un amore minimo, incapace di affrontare le situazioni grandi, le crisi vere, i problemi veri di tuo figlio, i problemi veri di tua moglie, i problemi veri del tuo fratello, i tuoi problemi veri, bene, tutto questo siamo noi, Cristo, Gesù, ha preso tutta questa spugna ambevuta di aceto, per dare compimento alla nostra vita, per riempirla trabocchevolmente, di che cosa? Dell'amore, dell'amore, fratelli, dell'amore che è capace di andare al di là di noi stessi, l'amore che si coniuga nelle piccole cose di tutti i giorni, della fedeltà costante, costante, studiare tutti i giorni, ah, non posso, ma per favore, chi insegna a un ragazzo? Vabbè, non ti preoccupare, anch'io sono stato ragazzo, è una tonteria, è una tonteria, non puoi, non puoi studiare, non sei costante nello studio, non sei costante nelle cose che fai, bene, non sarai costante nemmeno nel rapporto con la tua ragazza, non le sarai fedele, allungherai la mano, caro mio, perché la tua carne non è abituata, non ha questo abito, ha un altro tipo di abito, che è la la rilassatezza, che è il lassismo, che è il in fondo in fondo il totale egoismo. Bene, Cristo è risorto, fratelli, Cristo è risorto, capisci? Allora, questo colpo di cesello che oggi dà il Signore, con questa parola meravigliosa, è che Cristo oggi, in questa quaresima, ogni giorno, viene a donarti la sua vita, viene a donarti se stesso, viene a donarti il suo compimento, viene a donarti la sua pienezza, noi siamo partecipi della sua pienezza, dice San Paolo, viene a donarci la Torah, la legge compiuta attraverso questi piccoli anelli, queste piccole congiunzioni che sono i fatti di ogni giorno, quanto è importante, fratelli, che i due fidanzati curino ogni particolare, che nel rispetto, nella castità, nella prudenza, nel pudore, piccole cose, piccole cose, le battute, il beffarde, le ironie, i doppi sensi, ma che stiamo facendo qui? Moralismi? No, stiamo facendo il ritratto dell'uomo nuovo, dell'uomo che descrive Gesù Cristo, che descrive San Paolo, che non è frutto delle nostre capacità, non possiamo, è frutto dell'amore di Dio, è frutto della vittoria di Gesù Cristo sulla nostra incapacità, sono gli iod che Gesù ci dà compiuti, per non vivere tutto dissipato, per non vivere tutte isole, isole, l'isola della sessualità, l'isola del lavoro, l'isola dello studio, no, 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 noi siamo una unità, abbiamo una storia e questa unità, quello che lega, sono questi iota e la fedeltà quotidiana, quotidiana, una cosa impressionante, non possiamo aspettare l'evento eccezionale, dobbiamo aspettare che entrare ogni giorno, per questo la legge, la legge, la legge del Levitico è impressionante, perché la liturgia di santità sta parlando della sua vita, della mia vita, sta parlando di ogni osso del mio corpo, di ogni parte del mio corpo, dei miei occhi, di tutti i momenti del ciclo della donna, di ogni regola di impurità, perché? Perché è tutto santo, non sono leggi esteriori all'uomo, l'uomo ingannato dal demonio le vive come leggi esteriori per cui si sforza e non ci riesce, l'uomo nuovo, l'uomo rinato in Cristo, le vive dal di dentro, vive dentro un ordine, un ordine, che è l'ordine della creazione, è l'uomo che vive tutto nello stesso ambito che è l'amore, che lega ogni aspetto della sua vita, per cui la sessualità è legata allo studio, è legata al fare da mangiare, è legata a pulire, è legata al lavoro, è legata a andare a comprare, è legata al divertimento, è legata a vedere un film, è legata a andare a mangiare una pizza, è legata alla malattia, è legata ad andare a trovare i suoceri, è legata alla riunione di condominio, a fare la spesa, a comprare la lavatrice nuova, ai calzini bucati, tutto è legato. Questa è la vita meravigliosa, questo è il compimento trabocchevole, perché in tutto, in tutto, è esorbitante, è trabocchevole l'amore di Cristo, perché Cristo ha vinto la morte, lo ripeto ancora una volta, cioè ha rotto tutti gli argini, ha rotto tutti i limiti, allora questo amore impressionante riempie di sé ogni momento, per cui anche le cose più insignificanti, più rutinarie, ogni iota, anche il calzino bucato, sa di vita eterna, tu puoi vivere la vita eterna lì dentro, puoi vivere la vita eterna davanti al tuo figlio che sta male, che ha un handicap serio, ogni giorno, ogni giorno, lì, perdendo la tua vita per lui, sperando una guarigione che forse non arriva, ma ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, dialogando con lui, inventando cose nuove, commuovendoti, entrando in crisi, entrando in depressione, avendo dubbi, crisi di fede, tutto, in tutto, c'è una pienezza di vita, una pienezza, che è l'amore, che è l'amore di Gesù Cristo, per cui tutto, 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 sa, vita eterna, non c'è nulla di rutinario, nulla di grigio, nulla, tutto è stupendo, tutto è meraviglioso, tutto è pieno, 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 per questo è grande nel Regno dei Cieli, chi vive questa pienezza, e chi la insegna, cioè chi la trasmette, chi la trasmette ai suoi figli, chi la trasmette a ogni persona, chi trasmette questa vita piena, è grande nel Regno dei Cieli, già oggi, cioè è un cuore grande, ha un cuore senza limiti, non passerà il cielo e la terra, non passerà, senza che questa, nemmeno uno iota sia compiuto, questa parola è per te, è nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua comunità cristiana, non passerà, cioè, in questa terra, l'Eterno, la vita eterna, in questa terra, la vita eterna, il Regno dei Cieli, è il compimento della parola, il compimento della Torah, il compimento della legge, il compimento del cammino della vita, della legge di santità, che ti vuole felice, che ti vuole libero, senza vincoli, per amare, amare ogni giorno, con una creatività nuova, che abbraccia, tutti gli aspetti, della tua vita, la Quaresima, e anche questo cammino, buona giornata, buona notizia